Buongiorno, oggi faremo la maionese fatta in casa e pastorizzata, così da poter mantenerla qualche giorno in più in frigo. Per fare la maionese ci serviranno 350 ml di olio di semi di girasole, un uovo, 15 g di olio extravergine di oliva, 20 g di aceto di mele, sale, un cucchiaio di senape e pepe bianco. Per pastorizzare la maionese praticamente noi faremo bollire l'aceto e lo verseremo sull'uovo mentre poi verrà montato. Adesso procediamo. Buongiorno 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 Buongiorno